Benvenuti a Little Motor, benvenuti in via Stradella 82 e via Cardinal Massaia numero 5, dove troverete vetture nuove, vetture chilometri zero, vetture aziendali e vetture d'occasione. Andiamo a scoprirle insieme. Cominciamo subito con una Fiat tipo Station Wagon 1.4 16 valvole Euro 6, con climatizzatore, sensori parcheggio, sedili riscaldabili, bluetooth e comandi al volante. Qui a Little Motor a partire da soli 10.800 euro. Continuiamo con Fiat Panda, chilometri zero, 1.269 cavalli, sempre Euro 6, tutte climatizzate a partire da soli, pensate, 7.390 euro, oppure piccolissime le rate mensili, comprensive di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Abarth 695 1.4 turbo, 180 cavalli, allestimento rivale, la più sportiva, qui a Little Motor la troverete, a soli 26.900 euro. Vettura nuova, chilometri zero, full, full optional, da un listino che supera i 32.000 euro. E ancora chilometri zero, Jeep Renegade 1.6 multijet, 120 cavalli, con climatizzatore, cerchi in lega, sensori parcheggio, bluetooth, comandi al volante. Sarà vostra a soli 18.900 euro. Fiat Punto 1.269 cavalli, allestimento street, 5 porte nuove a chilometri zero, potrete scegliere il colore, a soli 8.900 euro. Passiamo a Fiat 500L, 1.3 multijet, 95 cavalli, Euro 6, con climatizzatore, cerchi in lega, sensori parcheggio, radio bluetooth, con comandi al volante, vettura aziendale che ha un percorso pochissimi chilometri, pensate, qui a Little Motor a soli 11.900 euro. Jeep Compass, 2.000 multijet, 140 cavalli, cambio automatico a nove rapporti, quattro ruote motrici, allestimento Night Eagle, cerchi in lega da 18 pollici, navigatore satellitare, telecamera posteriore e tantissimi altri optional, qui a Little Motor a soli 28.900 euro. Il listino supera i 35.000 euro. Avete capito bene, prezzo Little Motor, 28.900 euro. Parliamo nuovamente di Fiat Tipo Station Wagon, 1.4 16 valvole, Euro 6. Qui a Little Motor, vettura aziendale che ha un percorso pochissimi chilometri e soprattutto garanzia della casa, le troverete con impianto GPL, quindi 5 anni di esenzione bollo a soli 11.800 euro. 500L 1.4 turbo, 120 cavalli, con impianto GPL montato dalla casa, qui a Little Motor, allestimento Cross, le troverete a soli 18.900 euro. 500L 1.4 cross, con impianto GPL, 18.900 euro. Fiat 500X 1.6 110 cavalli, allestimento Popstar, sensori parcheggio, cerchi in lega, climatizzatore, radio con porta USB e Bluetooth, nuove a chilometri zero, garanzia ufficiale della casa madre, saranno vostri a soli 15.900 euro. Dacia Duster 1.6 allestimento Laureat, l'allestimento più bello, dal navigatore satellitare ai cerchi in lega e sensori parcheggio al climatizzatore, 29.000 km percorsi, sarà vostra a 9.900 euro. Abarth 595 1.4 turbo, 145 cavalli, qui a Little Motor, nuove a chilometri zero, garanzia ufficiale della casa madre, a soli 16.800 euro. Fiat 500 1.2 69 cavalli, allestimento Lounge, dal tetto in vetro ai cerchi in lega, al climatizzatore, la radio con porta USB, Bluetooth e comandi al volante, nuove a chilometri zero, a soli 10.900 euro. Fiat Panda 1.2 69 cavalli, euro 6, tutte climatizzate e soprattutto con impianto GPL. Cinque anni di esenzione bollo, saranno vostre a soli 8.390 euro, oppure piccolissime le rate mensili, comprensive anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Fiat Tipo 5 porte 1.4 turbo, 120 cavalli, allestimento Lounge, sempre nuove a chilometri zero, qui a Little Motor 14.500 euro. Fiat Punto 1.2 69 cavalli, allestimento Street, cinque porte con impianto GPL e cinque anni di esenzione bollo, a Little Motor a soli 9.900 euro. Fiat Tipo Station Wagon 1.4 16 valvole, euro 6, tutte climatizzate e con sensori parcheggio, sedili riscaldabili, Bluetooth e comandi al volante, vetture aziendali che porterete via, pensate, con una rata piccolissima, solamente 126 euro al mese. Fiat 500X 1.6 110 cavalli, Popstar con impianto GPL, cinque anni di esenzione bollo, qui a Little Motor 16.900 euro con impianto GPL. E ancora impianto GPL, stiamo parlando di Fiat 500, 1.2 69 cavalli con il GPL, quindi con cinque anni di esenzione bollo, allestimento Lounge, l'allestimento più bello, dal tetto in vetro ai cerchi in lega, al climatizzatore e al Bluetooth, qui a Little Motor chilometri zero, nuove a chilometri zero in garanzia ufficiale della casa madre, le porterete via a soli 11.900 euro. Citroën C3 1.2 allestimento Phil, cinque porte immatricolata nel 2017, ma soprattutto con soli 7.000 chilometri, praticamente nuova, qui a Little Motor, a soli 11.900 euro. Jeep Renegade 1.6 110 cavalli, benzina, allestimento Longitude, nuovi a chilometri zero, a soli 16.900 euro. E concludiamo con una Fiat 500, 1.2 69 cavalli, allestimento S, l'allestimento più sportivo, dai cerchi in lega ai sedili in pelle e tessuto, al Bluetooth, comandi al volante e climatizzatore, qui a Little Motor a soli 10.900 euro, o piccolissime le rate mensili, comprensive di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Tutto questo e molto altro dove? In via Stradella 82, in via Cardinal Masaia, numero 5 dei Talmotor. Vi aspettiamo numerosi.